Bella raga, oggi mi porto con me in un'avventura particolare Stiamo andando in valle, in zona da me, dove c'è tanto spazio per dronare Ma soprattutto per fare delle prove con le moto e il drone Allora ci sono tre entrate Una è sicura chiusa, l'altra possibile L'altra invece è aperta, per certo Il problema è che bisogna fare un po' di enduro Nel senso che vedremo quanto questa moto sia da sterrato, sia scrambler Aiuto! Oh shit! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.